Cagliari, i falchi della squadra mobile della Questura, hanno proceduto all'arresto di un disoccupato cagliaritano di 40 anni, colto nella flagranza di reato, di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori tenevano da giorni sotto osservazione il pregiudicato ritenuto custode di un'ingente quantità di stupefacente nella sua abitazione del quartiere Santeria. I poliziotti, fingendosi clienti, sono entrati nell'appartamento dell'uomo. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 40 grammi di cocaina e 680 grammi di asci scimpanetti. La droga era nascosta all'interno di alcune calze lasciate in bagno nel cesto della biancheria da lavare. L'uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.